Si passa dai 3 ai 4 anni, 9 al viado per il tiro di Creso, Rab, lo schieramento. 1 Cometa, 2 Carlotta Brut, 3 Ciala, 4 Capuzzi, 5 Ciondolo Dippa, 6 Cesar, 7 Kashmir, 8 Cedro Brò, 10 Cartier. I favori per Cesar, numero 6 Marco Castaldo in sediolo. Partiti in questo momento con Cesar che si avvantaggia, sbaglia Cometa, sbaglia anche Cesar, e si avanti, sbaglia anche Capuzzi, Carlotta Brut che va a condurre nei confronti di Ciala. Poi in terza posizione Cartier che ha colto ottima partenza dalla seconda fila, precede Kashmir C, 200 iniziali in sedici con Carlotta Brut che guida su Ciala. Subito dunque out il favorito Cesar con un errore poco dopo lo stacco. Se ne vanno i primi 400 di gara, completati in 33. Avanza così all'esterno Ciondolo Dippa che progredisce gradualmente, raggiunge Ciala in seconda posizione. Intanto c'è sempre Cartier in terza alla corda che precede Kashmir C e quindi Cedro Brot che avanza a sua volta all'esterno seguendo le mosse di Ciondolo Dippa. Cavalli al passaggio domanti alle tribune condotti da Carlotta Brut che guida su Ciala all'esterno. Ciondolo Dippa, poi Cartier con all'argo Cedro Brot alla corda Kashmir C indietro Giacometa dopo l'errore. Cavalli che hanno completato anche gli 800 e si apprestano a rifinire il chilometro nell'ordine dell'1, 22 e 2. Se l'è presa decisamente comoda il leader. Intanto l'errore di Ciondolo Dippa. Numero 5, Ciondolo Dippa squalificato. Ha sbagliato ai 500 conclusivi. Intanto allunga a questo punto decisamente Carlotta Brut. In seconda posizione passa Cartier che ha guadagnato sul spostamento esterno di Ciala. Poi c'è Cedro Brot ancora alla corda Kashmir C, poi Cometa. Retta d'arrivo con in netta evidenza Carlotta Brut. Carlotta Brut nel finale accelera per concludere nettamente vittoriosa. Secondo posto per Cartier al terzo. Chiude Kashmir C. 1-19-1 con 29 e mezzo a chiudere. Finisce Forte Cometa al quarto posto ma aveva sbagliato gravemente al via. Andiamo a rivedere il bel primo piano di Carlotta Blu. Carlotta Brut che vince con Antonio Scarano in sediolo. Per conto di Cristian Bruniera che è allenatore e anche proprietario. Grazie. 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 Grazie.